Una delle competenze più importanti, fondamentali dell'ente regione è la sanità che davvero misura il livello di civiltà di servizi verso una comunità. Ne parliamo con Gianpaolo Vietri, candidato al Consiglio regionale pugliese, con il candidato presidente Raffaele Fitto. Io credo che la sanità è un tema a cui ogni cittadino è particolarmente sensibile. Noi dobbiamo ricostruire quello che è il sistema sanitario pugliese. In questi anni questo sistema sanitario è stato praticamente smantellato con tanti presidi chiusi, con tanti reparti chiusi, con le liste d'attesa che si sono allungate e con il protosoccorso del principale ospedale della provincia ormai al collasso. Per ultimo c'è stata anche la chiusura di fatto dell'unità di terapia intensiva neonatale che di fatto appunto è stata trasferita a Bari. Ma questa è solo la punta di un iceberg. In un recente report apprendiamo che al 31 dicembre 2019 le ASL di Taranto hanno speso solo il 30% delle risorse destinate all'ammodernamento degli ospedali e alla costruzione di nuovi presidi territoriali assistenziali. Sapete quanto ha speso l'ASL di Taranto? L'ASL di Taranto ha speso appena il 10% delle risorse. Questa è una vergogna. Noi crediamo che occorre una netta inversione di rotta al governo della Regione Puglia. Emiliano è anche stato nel frattempo assessore alla sanità. Noi siamo solidali con i medici, con il personale sanitario che opera tra mille difficoltà. Intendiamo, andando alla Regione, potenziare i medici di base. Intendiamo ascoltare le associazioni dei medici che più di tutti hanno cognizione su cosa c'è da fare. Vogliamo controllare ogni voce di spesa per rendere la sanità pugliese più efficace e adeguata a quelle che sono le esigenze di cura dei cittadini del nostro territorio.